No, le divisioni ci sono quando qualcuno esclude qualcun altro. Noi vogliamo invece essere aperti e inclusivi. Noi riteniamo che l'Europa abbia bisogno, soprattutto adesso, con i cambiamenti che saranno a livello mondiale, con le nuove elezioni americane, debba assumersi di più le proprie responsabilità in materia di difesa e sicurezza. Gli europei devono fare di più per assicurare la loro sicurezza. Devono fare di più per governare meglio l'immigrazione. Devono fare di più per soddisfare l'esigenza dei cittadini, non solo di sicurezza fisica, ma anche di sicurezza economica. E noi vogliamo andare avanti con chi ci sta. Tutti coloro che hanno la volontà politica e la capacità per farlo sono benvenuti, ma non accetteremo più in futuro di essere bloccati da questo o quell'altro Paese.